Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come, come, come state? Spero bene dai, oggi sono qui solo, solo per voi, perchè voglio registrare un video dove vorrei proprio che tu chiudessi gli occhi e ascoltassi i diversi trigger che ho preparato ecco, quindi non mi resta che dirti, indosso un paio di cuffie auricolari, stendi sul tuo letto e magari sono sicuro che potresti anche addormentare, che ti potresti anche addormentare, sì, allora io dico subito che mi scuso nel caso sentiate un eccessivo rumore di sottofondo ma non capisco come mai stanotte c'è veramente caos, non lo so, è più o meno questo è l'orario mio solito per registrare, perciò non lo so, vi giuro, non lo so, quello che però possiamo fare è ascoltare invece i trigger che adesso inizierò a fare, che ne dici, come prima, prima, prima trigger, ho preso questo barattolino per farci, del tapping così, anche dall'altro lato del tapping in generale sul vetro, chiudi gli occhi, non so dove ma mi sa che questo barattolo perde un po' d'acqua, va bene, qualche seconda ancora di tapping così, ok dai basta, se non so come mai coccolerà da qualche parte, il secondo 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 trigger invece è qualcosa che ho voluto provare perché ho qui con me un astuccio con cui fare un po' di trigger in generale ma principalmente vorrei sentiste il suono della cerniera così così perché secondo me è qualcosa che possiamo apprezzare ritorniamo con la cerniera ok, lo poso mi dispiace mi dispiace veramente veramente tanto che ci sia questo caos perché a me piace un sacco registrare i video appunto però però mi deprimo proprio quando so che un video sarebbe potuto venire molto molto meglio se solo non ci fosse stato tutto il caos che c'era adesso adesso però voglio fare un altro trigger in cui ti farò semplicemente qualche carezza, ti toccherò un po' il viso ma intanto tu in sottofondo che cosa sentirai? sentirei il suono della pioggia che cade su un ombrello che cade su un ombrello va bene? secondo me è stupendo ma proviamo quindi via qui 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 un suono che, già so, sarà un po' difficile per me fare. Ho qua con me delle crystal, non so se possiate vederle qua. E vorrei appunto piegarle. Piegarle un po' per fare un po' di suoni. Secondo me questo trigger ha del potenziale. Devo solo imparare a farlo bene. Ok. 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 Basta così. E' veramente, veramente problematico. Andiamo avanti. Ho sempre qua sul tavolino preso. Aspettate che l'inverto. il controller del switch. E vorrei... Ok. 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 Mi rilassa un sacco. Mi piace proprio questo suono. Ok. Li appoggio qua. Niente, li adoro. Adesso un altro trigger che voglio fare è una combo che però dividerò in due perché non ho quattro mani. ovvero con un lip gloss e un rossetto vorrei fare semplicemente così. l'ang Guardate. Soccolo un po' di sapore. Quindi adesso, la pelle, che faccio sulla vanità. Ok. 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 Un po' con questo, ma soprattutto con questo che secondo me non sono molto più figo. Secondo me è carino, questo qui è un rossetto liquido, ok dai basta, un assaggio ecco, un piccolo assaggio, che ovviamente stava cascando giù, ovviamente, l'ho preso al volo. Adesso vorrei fare ancora due suoni. Il primo è, vorrei alzare un pochino la voce e fare un po' di spooking, ma più che altro vorrei concentrarmi, aiuto, a farti un attimino respirare. Respireremo infatti insieme, quindi ispirazione, espirazione, fallo insieme a me, ok? Facciamo due volte. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Un'ultima volta, ok? Inspira ed espira. Credo infatti sia molto importante ogni tanto fermarsi un attimino per respirare. Per bene, ecco. E quindi adesso giungiamo all'ultimo trigger che avete già visto sul canale, una volta ancora del tapping. su quest'album di un gruppo K-pop chiamato G-IDOL. In quanto io sono un grandissimo fan del K-pop. Posso dire che secondo me, dopo YouTube, è la mia più grande passione. In quanto ascolto K-pop tutti, tutti, tutti i giorni. E mi piacerebbe poter fare un video, magari dove ve ne parlo un po', però dovete essere voi a dirmi se vi piacerebbe oppure no. Perché so che non piace a tutti, quindi non sarebbe neanche corretto magari farlo, perché poi solo guardano poche persone, non lo so. Sai di fatto che io dovrei avere quasi una decina di album, perché ne ho uno delle Blackpink, due degli Stree Kids, uno delle G-IDOL, uno delle Seraphim, uno delle HYP, uno delle ESPA. E mi sembra, basta, uno delle ITZY. E forse adesso basta, non mi ricordo, dovrebbero essere quasi dieci se non sbaglio. E ho anche ben due like stick, quello delle Blackpink e quello degli Stree Kids. E ovviamente sto programmando di espandere queste mie collezioni, ma piano piano, perché comunque sono cose che costano. Quindi fatemi sapere se vi piacerebbe un video a tema, oppure sul K-pop intendo, oppure meglio di no. Sa, io guardando da quanto tempo sto registrando, mi sa che è arrivato il momento di salutarci. Io vi chiedo ancora scusa per tutto il caos, se c'è stato, e ti dico, cuckoo, cuckoo. Ora tocca solo a te. Iscriviti al canale se sei nuovo, per andare a far parte della UPS community. E diventare un UPSino se sei un maschietto e una UPSina se sei una femminaccia, va bene? Poi importantissimo, lascia un like per supportarmi, per spingermi a comparire di più sulle home di YouTube. E commenta, importantissimo, commenta. Io leggo tutti, tutti i vostri commenti. Il video di oggi purtroppo avvenisce qui, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio. Di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sotto il tasto per andare sul mio canale, ecco. E guardare tutti i video che vuoi, va bene? Io ti mando un grande bacio per adesso. E ti saluto, dai. Che magari ti sei pure addormentato. Addormentata. Buonanotte. 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 Buonanotte.